Buongiorno, buon inizio di weekend post partita oggi, giornata che arriva dopo la bella vittoria dell'Udinese che ieri nell'anticipo ha aperto la seconda giornata del campionato di calcio di Serie A, 3 a 0 al Venezia, ne parleremo nella pagina sportiva e nel corso della giornata naturalmente ascolteremo la voce dei protagonisti e vedremo le immagini del match di ieri, dei tre gol che hanno consentito alla squadra di esaltare la Dacia Arena, ieri c'erano quasi 11 mila spettatori sugli spalti dello stadio di Udine, andiamo adesso a dare uno sguardo però subito alle immagini che arrivano da Promoturismo FWG, oggi non sembra essere una bella giornata, tutt'altro, Piovigina, andiamo subito sul Montasio, andiamo a vedere sull'altopiano del Montasio com'è la situazione dalle immagini di Promoturismo FWG e come potete vedere il cielo è coperto e il sole ancora non riesce a farsi vedere, vedremo se poi nel corso della giornata le cose cambieranno e ce lo dirà 3B Meteo tra poco nel resoconto quotidiano di primo mattino che apre la giornata del meteo con le previsioni, andiamo a vedere adesso sullo Zoncolan, qui le nubi sono ancora più minacciose, davvero non promettono nulla di buono per la giornata di oggi, quello di oggi è l'ultimo weekend di agosto, poi arriverà il mese di settembre con tutti i nodi da sciogliere per quanto riguardano la gestione della scuola che ripartirà i trasporti, tutti argomenti legati, andiamo avanti i forni di sopra, qui siamo con l'immagine sulle Dolomiti, anche in questo caso il cielo è coperto, spostiamoci a Ronchi, stessa situazione in questo caso però vediamo anche un po' di sole che ci lascia un tantino sperare, poi Trieste e Grado, chiudiamo con Trieste dove la situazione sembra assolutamente più serena rispetto ai rilievi, ai monti, andiamo a chiudere con Grado e speriamo che a Grado ma anche a Lignano e in generale in tutte le località di turismo della nostra regione oggi ci possa essere una giornata da poter trascorrere in tranquillità, potersi rilassare in quest'ultimo weekend di agosto anche se il meteo come detto purtroppo non promette benissimo e allora andiamo a sentire Trebi Meteo con le previsioni nel dettaglio sulla nostra regione. Amici di Udinese TV ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni di Trebi Meteo. Nel corso della giornata di sabato un vortice di aria fredda si avvicina dal nord Europa alla Friuli Venezia Giulia, porterà maggiore instabilità con qualche acquazione piovasco già tra notte e mattina soprattutto in montagna, ma nuova instabilità diurna potrà manifestarsi anche tra pomeriggio e sera in sconfinamento anche alle pianure. Per quanto riguarda il dettaglio delle province di Udine e Pordenone dunque ci aspettiamo qualche piovasco, qualche acquazione già tra la notte e la mattina di sabato e poi nuova instabilità tra pomeriggio e sera con acquazioni e qualche temporale in sconfinamento anche ai capoluoghi di provincia tra il tardo pomeriggio e la serata. Clima più fresco con temperature massime contenute entro i 25-26 gradi. Sarà così anche sulle province di Trieste e di Gorizia dove ci aspettiamo comunque una mattinata con qualche schiarita e poi nel corso del pomeriggio e della serata possibilità di qualche acquazione e qualche temporale sparso soprattutto sulla provincia di Gorizia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. E ora abbiamo visto le previsioni, dunque l'unica nota sicuramente positiva è che le temperature si abbassano e quindi saremo un po' più freschi per il resto, però come avete visto il cielo sarà coperto e sarà variabile. Alle mie spalle Luca Gotti sulla prima pagina, la home page di udinesetv.it, il portale dell'informazione del nord-est, vedete le dichiarazioni del mister, il vantaggio ci ha permesso di indirizzare la partita, il gran gol di Nacio Pussetto ha aperto le danze e poi proseguite con le altre reti di Deolo Feu e di Molina. Ha parlato anche il talento spagnolo che sta lentamente tornando alla forma dei tempi migliori, dopo quasi due anni di assenza dei campi, con pochissime apparizioni l'anno scorso, quest'anno è iniziato con continuità, due apparizioni a partita iniziata, due gol contro Juventus e contro il Venezia. Adesso pian piano Gotti, senz'altro farei modo di inserire stabilmente l'attaccante che può essere sicuramente un'arma in più dell'Udinese. Un altro dei calciatori in grande crescita è sicuramente Wallace, il brasiliano, ha preso in mano il comando, le redini del centrocampo, il primo gol ha cambiato la partita, dice il brasiliano, è esattamente lo stesso concetto che ha espresso Luca Gotti. Riascolteremo tutte le dichiarazioni dei protagonisti della partita nei nostri telegiornali a partire dalle 10 in poi. Adesso andiamo a leggere il sito dell'ANSA con notizie di stampo internazionale e nazionale, ma partiamo con la crisi in Afghanistan e con il raid americano effettuato con un drone che ha ucciso un membro dell'ISIS-K. Questa formazione, questa variante, chiamiamola così, dell'ISIS che ha rivendicato gli attentati all'aeroporto di Kabul. Il Pentagono era una delle menti dell'organizzazione terroristica. Nuova allerta all'aeroporto di Kabul. Bisogna fare veramente attenzione perché l'ultima volta in cui abbiamo di mattina letto sui giornali e abbiamo parlato di allerta all'aeroporto di Kabul, il pomeriggio è successo il disastro, più di 100 morti. Quindi effettivamente le forze che stanno controllando e che tengono in questo momento in mano la sicurezza dell'aeroporto di Kabul, chiaramente devono fare attenzione, ma senza altro non hanno bisogno che glielo ricordiamo noi. C'è questo allarme, ma intanto la risposta degli americani è arrivata subito con un raid con drone che ha provocato la morte di un membro dell'ISIS-K che sarebbe una delle menti, secondo le fonti del Pentagono che hanno rivelato questa circostanza, sarebbe una delle menti che hanno organizzato gli attentati a Kabul. A meno 170 morti gli Stati Uniti temono altri attacchi per rimanere nell'ambito della crisi afghana. Sarebbe stato uno solo, l'attentatore suicida nelle due esplosioni, vengono fuori poi i particolari, piano piano, man mano che si indaga su quello che è successo, sono ancora 5.400 intanto le persone che attendono di essere portate via. Biden pensa a droni e missili come rappresaglia contro l'ISIS-K, è un drone che ha già fatto una vittima tra i terroristi e l'ONU stima fino a mezzo milione di rifugiati afghani entro il 2021 al confine con il Pakistan, un afflusso senza precedenti. Questa è la situazione dunque in Afghanistan e l'ultima ora delle 4.11 è quella che vi abbiamo letto e che l'ANSA ha messo anche come notizia di apertura, cioè l'attacco con il drone che ha provocato la morte di uno dei terroristi, secondo le fonti del Pentagono. E adesso andiamo sui giornali dove Kabul, l'Afghanistan occupa ancora la maggior parte dei titoli delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Cominciando con il Corriere della Sera, il ritorno degli italiani, l'evacuazione dopo i kamikaze, anche il console Claudi sull'ultimo volo verso il nostro paese, intanto sale il bilancio delle vittime degli attacchi, come abbiamo letto anche poco fa su l'ANSA, sarebbero 170. Quei bambini morti all'arrivo, il medico di emergency a Kabul, tanti feriti e quei bambini arrivati purtroppo già morti. Dove può colpire la reazione degli Stati Uniti, la strategia degli Stati Uniti? In risposta agli attacchi terroristici vi daremo la caccia, detto Biden e il Corriere della Sera traccia un po' la strategia e quelli che potrebbero essere gli obiettivi che gli Stati Uniti andranno a colpire come risposta agli attacchi terroristici di Kabul. Draghi e il G20, le richieste russe, ricevuto a Roma, quindi la nostra capitale, Lavrov per il G20 con la Russia che chiede di contare di più, ma intanto questa riunione, questo incontro dei 20 grandi del mondo si sta rivelando in salita, qualche difficoltà in più, mettiamoci anche quello che è successo in Afghanistan, da rendere le cose ancora più difficili. Vaccinati due studenti su tre, sia al Green Pass per 12 mesi, incremento degli immunizzati con la prima dose tra i 16 e i 19 anni. C'è da dire che per quanto riguarda il Covid, la situazione in Italia è purtroppo peggiorata, nel senso che la Sicilia da lunedì sarà in colore giallo, purtroppo i parametri sia di incidenza che di occupazione di terapie intensive ed altri posti, posti letto negli ospedali, nell'area non a rischio, ha costretto il Ministro a prendere atto dei dati del monitoraggio e assumere dunque le iniziative di conseguenza. La Sicilia sarà gialla a partire dalla prossima settimana, per il resto in Italia si cresce con l'occupazione ospedaliera in maniera molto, 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 molto blanda e i contagi sembrano essere arrivati ad un picco, ad un plateau, come suol dire, che dovrebbe portare ad un abbassamento nelle prossime settimane in vista poi dell'autunno, quando si spera che i vaccini con il completamento della campagna e con il raggiungimento di una percentuale sufficiente a garantire la copertura del Paese facciano dunque il loro lavoro come già stanno facendo dal momento che ormai stiamo registrando dappertutto, dei dati che ci dicono in maniera inequivocabile che il 90% delle persone contagiate non è vaccinata, non è ancora vaccinata, chi finisce in terapia intensiva, chi finisce in ospedale, chi purtroppo ci rimette la vita in stragrande maggioranza si tratta di persone non vaccinate o comunque se vaccinate gravate da gravissime patologie e da età avanzata, dunque bisogna assolutamente continuare con la campagna vaccinale, non lo diciamo noi, lo dicono i medici, i scienziati che ormai sta studiando questo virus da quando è comparso sulla scena mondiale. Andiamo su Repubblica, la prima pagina di Repubblica parla di un possibile nuovo attacco dell'Isis, infatti oggi si parlava già di nuova allerta all'aeroporto di Kabul, l'allarme dalla Casa Bianca che autorizza raid contro i terroristi, cresce il bilancio della strage di Kabul, 170 morti, i talebani dicono preso il controllo di parte dell'aeroporto, terminato il ponte aeroitaliano sono state evacuate oltre 5 mila persone, nel G20 Draghi ottiene il consenso dell'India e tratta con la Russia che vuole contare di più. Noi vogliamo semplicemente sottolineare come Mario Draghi abbia riportato l'Italia anche nelle questioni di politica estera ad un piano sicuramente di maggior spessore rispetto a prima. Draghi compare in trattative, compare in riunioni, in meeting, ma con una presenza pesante, non soltanto con la semplice presenza. L'addio di Ronaldo alla Juventus, inizialmente sembrava il Manchester City che era in pole position per prendere Cristiano Ronaldo ma offriva il contratto al portoghese. Per una sola stagione è arrivata l'altra squadra di Manchester, lo United, dove peraltro Ronaldo 18 anni fa aveva iniziato la sua carriera a grandi livelli e ha offerto un biennale e dunque per 29 milioni netti all'anno per due stagioni Cristiano Ronaldo torna a Manchester, va a giocare nello United. Addio Ronaldo al Manchester United del titolo della Repubblica. Ieri la notizia ufficiale. Il fatto quotidiano, Draghi vuole Putin che alza il prezzo. Afghanistan la trattativa con Mosca non sarà gratis, vedete Draghi è dietro Putin. Kabul dopo i 170 morti, Biden merita vendetta ma è sotto schiaffo per il G20, Mosca chiede contropartite, la Cina nicchia, rientro quasi finito. L'incognita dell'Isis-K, la mappa del Jihad globale, è il 250esimo attentato. Adesso si attendono nuove bombe. Sembra ormai scontato che l'Isis continuerà a seminare terrore con altri attentati, speriamo che arrivino le contromisure per evitare questi attentati. Kabul, l'ultima fuga dall'orrore, l'ultimo viaggio degli italiani. È stato completato il ponte aereo che riguardava direttamente le persone collegate all'Italia, in maniera diretta, cioè cittadini italiani oppure chi ha collaborato con gli italiani negli anni in cui il nostro paese ha fatto parte della coalizione che ha provato ad esportare un po' di democrazia in quel paese. Il manifesto No Fly Zone, qui vediamo all'aeroporto di Kabul, afghani che si accalcano davanti ai gate nel tentativo di strappare un posto per l'Occidente. Il giorno dopo la strage dell'Isis che ha provocato almeno 170 morti, anche l'Italia chiude il ponte aereo con Kabul, i talebani entrano in aeroporto, appello delle associazioni a Draghi e all'Unione Europea per salvare gli attivisti in trappola, un rifugio per chi parte, uno scudo per chi resta. E poi si parla della scuola, oltre il 90% è già vaccinato, quasi tutto personale ha fatto almeno una dose dal Comitato Tecnico Scientifico, via libera intanto al Green Pass valido per 12 mesi, dunque si allunga di altri tre mesi il Green Pass da 9 a 12 dall'ultima dose di vaccino, quindi dalla seconda dose per chi ha dovuto farne due per completare il ciclo o dalla dose singola per chi ha fatto Johnson & Johnson che prevedeva una sola dose, quindi si allunga a 12 mesi la validità del Green Pass. Continuiamo, andiamo sul gazzettino, il gazzettino apre con le indagini sulla morte di Serena, la farmacista di Castelfranco, la procura di Treviso ha aperto un'inchiesta, i dubbi sul decesso seguito dal suicidio dello zio, segni sul collo decisiva l'autopsia. E poi il volo con a bordo gli ultimi militari, il racconto di chi era a bordo e ha potuto dunque raccontare, descrivere le sensazioni che si provavano a bordo del venivolo militare che da Kabul ha effettuato l'ultimo volo per portare in Italia le ultime persone da portare via dall'inferno dell'Afghanistan. L'Italia via dall'Afghanistan, anche l'Italia negli anni ha dato un contributo anche di vite umane alla causa. Operai senza passa alla Electrolux chiude la mensa la decisione dopo che alcuni erano entrati senza avere il documento, dunque i controlli sì non sempre sono rigidi ma quando scattano poi cosa succede? Vengono pescati i furbetti e in questo caso chiude la mensa della Electroluxa susegana. Alcuni entrati senza avere il documento sono scattati i controlli e dunque la mensa chiude. Questo il gazzettino in prima pagina, adesso ci spostiamo sul giornale. Caos profughi da Kabul, allarme dell'ONU, le Nazioni Unite, più di 500 mila afghani in fuga, rischio di infiltrazione di jihadisti, sale il bilancio della strage, 200 morti, ieri l'ultimo volo per l'Italia. Ora Biden promette uccideremo i colpevoli ma gli 007 annunciano, attenzione arrivano altri attacchi, si parla di andare uniti contro l'uccidente e questo è quello che minacciano i talebani e l'Isis, il patto di sangue tra talebani ed Isis per andare uniti contro l'occidente. E poi il grande equivoco, buoni e cattivi, le diverse facce del terrore e poi le lacrime che non commuovono la commuzione del Presidente degli Stati Uniti che però secondo la Repubblica, secondo l'articolo di Paolo Guzzanti non commuovono e poi l'intervista all'Antonio Martino che dice certo la democrazia si esporta perché c'è stato anche chi si è interrogato in questi giorni su questo tema, è giusto sicuramente sì tentare di esportare democrazia ma si può esportare democrazia senza tener conto della cultura, delle tradizioni di certi paesi, è chiaro che non si può mettere nel calderone della cultura, delle tradizioni anche il trattamento tribale o basato sulla legge islamica, quella più transista, integralista, quella che calpesta i diritti umani e in particolare quelli delle donne. In ogni caso l'interrogativo è stato posto, è sul tappeto, si discute e Martino sul giornale dice sì, la democrazia si può esportare. Libero, titola così, sbarca a luglio, stupra ad agosto, Lamorgese, controlli con l'abrodo, arrestato un egiziano, arrivato a Lampedusa, ha violentato un'infermiera a Milano proprio nel giorno in cui la ministra disse non c'è emergenza, omicidio a Saman per i giudici, il movente è l'Islam, questo il titolo a metà tra le problematiche di immigrazione e altro tipo di problemi, in questo caso l'omicidio Saman, da ricercare come movente proprio in quello che diciamo poco fa, in un Islam che non tiene conto dei diritti delle persone, in particolare delle donne. La lunga agonia di Gianfranco Fini, un destino amaro, ecco qui la foto di Gianfranco Fini, il prezzo è filmato da Vittorio Feltri. Chiudiamo con la verità, poi andremo a vedere solo 24 ore quotidiano economico e finanziario per passare poi alla pagina dei quotidiani locali, sulla verità, un rimedio al caos c'è, i test salivari, se davvero l'obiettivo è combattere il virus, poco costosi e poco invasivi, sono la soluzione che può mettere d'accordo tutti, il Veneto riusirà a tappeto nelle scuole, così come pure la Francia, da cui abbiamo copiato il discutibilissimo Green Pass, però al Comitato Tecnico Scientifico e al Ministero di Speranza remano contro. Via libera, l'estensione del passaporto a 12 mesi, la prova che la scienza non c'entra, dunque la verità, continua a sostenere che il Green Pass è uno strumento politico, non c'entra nulla con la scienza e con la medicina, ma è uno strumento che serve soprattutto a indurre gli indecisi a vaccinarsi e quindi serve a far crescere la percentuale di persone vaccinate nel nostro paese, comunque sia il Green Pass è attivo, funziona e funziona anche bene dal punto di vista dell'operatività, nel senso che non si registrano clamorosi caos, clamorosi problemi di applicazione, di controllo di questo strumento. Si crede il Granduca, Gianni vuole chiudere in casa i non vaccinati, l'articolo è quello di Paolo del Debbio, per coloro che non vogliono fare il vaccino, il nostro atteggiamento è di assoluto rispetto fino al 30 settembre, dopo quella data chi non ha fatto il vaccino sta a casa, queste persone non si provino a venire nei ruoghi pubblici perché la loro non vaccinazione per scelta è una cosa inconcepibile nell'economia e nell'interesse di una comunità che vuole superare l'emergenza sanitaria. Questo è il parere espresso dal Presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni. Andiamo sul sole 24 ore, dove l'apertura è su Wall Street, Paolo rassicura e scatta subito la corsa agli acquisti, il record a Wall Street verso il taglio agli acquisti, ma i tassi sono però fermi, record a Wall Street in ogni caso negli indici finanziari. Kabul, ultime ore per fuggire, Stati Uniti rischio nuovi attentati e poi la partita Montepaschi di Siena, medio credito entra nella partita MPS e poi di Spal sulle 24 ore dedica anche uno spazio alla cessione di Cristiano Ronaldo che lascia la Juventus e va a Manchester United, Sport & Business, CR7 lascia la Juve e conti in tasca a giocatore club. Sicuramente il club qualcosa ci ha rimesso, qualcosa per modo di dire, Ronaldo sicuramente invece ci guadagna molto, non cambia molto l'ingaggio tra quello che percepiva la Juve che era di 30 milioni netti all'anno, al Manchester United ne prenderà 29 per due stagioni dunque. In ogni caso niente male. Andiamo sul messaggero di Udine e cominciamo dunque la nostra rassegna sui quotidiani locali con la prima pagina dedicata al mercato del lavoro e a dei dati che sono interessanti perché lavori e assunzioni, i numeri ci dicono che sono venuti fuori 3 mila posti in più, mancano però gli stagionali, le aziende cercano oltre 26 mila addetti tra giovani laureati la previsione di un e un camere cresce il 9% delle imprese. E poi c'è spazio per il Covid, l'epidemia dove come dicevamo prima i dati anche nella nostra regione confermano quello che succede dappertutto e cioè che 10 su 11 ricoverati non sono vaccinati. L'abbiamo già detto nei giorni scorsi quando Riccardo Riccardi aveva segnalato che 7 ricoverati in terapia intensiva su 9 erano non vaccinati e i due vaccinati erano comunque persone gravate da patologie molto serie che chiaramente influiscono sul decorso della malattia soprattutto e a maggior ragione se il paziente è in età avanzata. Andiamo a vedere per centropagina la foto di Pussetto che esulta sotto la curva dopo il bel gol che ha aperto le danze contro il Venezia, tre colpi d'autore, l'Udinese vola e il Venezia crolla. Torniamo da quest'altra parte per continuare sulla striscia a sinistra, scuole e trasporti, questi sono i due grandi interrogativi della ripresa delle attività dopo Ferragosto, quindi fra pochi giorni cominceremo a fare i conti con queste problematiche in maniera molto seria sul campo e non soltanto in teoria, non solo a parole. Il vertice per la scuola, i presidi sono preoccupati, manca la chiarezza sul Green Pass, arrivano le diffide anche in questo caso, però il Ministero sta facendo di tutto per rendere i controlli agevoli con un accesso ad una banca dati riservata naturalmente al personale autorizzato della scuola, quindi nel più rispetto alla privacy, che consentirà di controllare in via preventiva chi è dotato del disco verde e chi invece no, tra il personale scolastico, in modo da poter intervenire tempestivamente. Ricordiamo che c'è l'obbligo di Green Pass per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico e che chi non riuscirà a dimostrare di avere il certificato, chi si assenterà dalla scuola per cinque giorni senza una valida giustificazione, verrà sospeso e dopo un po' scatterà anche la sospensione dello stipendio, come accade per i medici. Andiamo a vedere di spada la cronaca, immondizia abbandonata in giro per la città e poi la città di Udine, poi la frana che ha provocato l'interruzione della strada ed è stata poi liberata e a San Giorgio di Nogaro la politica, Forza Italia e Lega si ricompattano e candidano Vocchini e infine a Palazzolo l'ex vice sindaco si ferisce con la moto zappa ed è grave in ospedale. Andiamo a leggere la prima pagina, anzi andiamo prima su una pagina interna del messaggero sull'attualità nazionale, si parla di Green Pass, di D-Cover in Italia che continuano a salire, come dicevo poco fa, lui vieta l'ingresso ai cittadini degli Stati Uniti non vaccinati, in Toscana luoghi pubblici inibiti ai non immunizzati, ma intanto questa è la situazione dei dati regione per regione con la Sicilia che ha una incidenza di 200,7 casi, 1,22 e l'RT e andiamo a vedere l'indice di contagio, di casi nuovi ogni 7 giorni in Sicilia come avete visto più di 200, l'indice di contagio che nella nostra regione è allo 0,85, quindi è tra i più bassi nel paese e i casi nuovi ogni 7 giorni l'incidenza è di 55,7 nuovi casi ogni 100 mila abitanti, la Sicilia ne ha 200,7 e quindi è in questo momento una regione che torna in colore giallo, la prima a tornare gialla e speriamo anche l'ultima, l'unica e che torni presto bianca come tutte le altre. Nella nostra regione i nuovi casi ieri erano 7.826, giovedì i positivi erano stati 7.221, quindi c'è stato un innalzamento ma negli ospedali la situazione è rimasta abbastanza stabile e sotto controllo, non si registrano assolutamente i livelli di allarme, la situazione rimane, permane sotto controllo grazie alla campagna vaccinale che pure nella nostra regione sta subendo un piccolo rallentamento. Difide procedure ancora confuse, scuola alle prese con il Green Pass, siamo ad Udine presidi preoccupati sull'improvviso aumento di richieste di congedi che fanno presagire disservizi gli insegnanti o gli altri operatori, personale scolastico in genere, cominciano a chiedere dei congedi per non incappare evidentemente nei controlli e per non essere costretti a vaccinarsi o a fare il tampone ogni 48 ore per ottenere il Green Pass, si profilano dei disagi, vedremo come andrà a finire, ma probabilmente questa è una cosa che scopriremo solo ad anno scolastico iniziato e sarà un dramma perché se le cose andranno come i timori lasciano presagire avremo un anno scolastico che inizierà sicuramente con il piede sbagliato. Denardo e Gervasutti, due dirigenti scolastici, manca il personale per poter garantire controlli e assembramenti, non ci sono notizie sui rinforzi Covid, dall'altra parte Gervasutti che vediamo anche in foto, ci rassicura il fatto che il Ministero abbia intenzione di trovare una soluzione in tempi rapidi a questa difficile situazione. Tutti i temi che abbiamo affrontato e che affronteremo anche nei nostri telegiornali, non soltanto oggi ma tutta la settimana, in generale sempre ci occupiamo dei temi di attualità e uno dei temi di attualità in questi giorni è sicuramente la scuola, perché? Perché tra poco siamo all'ultimo weekend di agosto, poi arriverà il mese di settembre che è il mese in cui riaprono gli istituti scolastici, riparte la scuola nella nostra regione, in generale in Italia, anche se con calendari differenziati da regione a regione, ma il problema resta per tutti, le aule, il distanziamento, i controlli, il green pass, i trasporti, questi sono i problemi che investono la scuola italiana e non sembra che ci sia chiarezza su come risolverli, speriamo davvero che qualcuno tiri fuori la soluzione giusta, che si possa partire bene per evitare scongiurare un nuovo ricorso alla didattica a distanza, che ha avuto il pregio di consentire le lezioni in un momento in cui era necessario chiudere le scuole, ma adesso basta, bisogna andare avanti con la didattica tradizionale in presenza e lo Stato, la scuola devono garantire gli strumenti affinché si possa seguire le lezioni in totale sicurezza per quanto riguarda il rischio contagio da Covid-19. Andiamo sul gazzettino, abbiamo già visto la prima pagina, adesso ci spostiamo all'interno, subito sulla pagina dedicata al Friuli, che è la nostra zona di copertura principale, scuola valanga di diffide e di richieste di congedo, quello che diciamo poco fa, c'è il rischio che tra richieste di congedo e di fide per personale non vaccinato la scuola possa iniziare con dei grossi buchi negli organici. Il Friuli resta ancora in zona bianca, nella prima metà di quest'anno in regione si è registrato un numero record di aumento contagi, record della mortalità rispetto all'era pre-Covid, questo è chiaro, un po' dappertutto è arrivato il record di mortalità rispetto al pre-Covid, perché il Covid ha ucciso tante persone anche nella nostra regione. Poi il calcio, sul nord-est comanda l'Udinese, l'Udinese che batte il Venezia, vince il derby del nord-est 3-0 e adesso si va alla sosta con grande serenità, sperando poi di riprendere il cammino così come lo si è iniziato, con due risultati positivi contro Juventus, pareggio e contro Venezia, vittoria per 3-0. Questa è la prima pagina della dorsale dedicata al Friuli, vediamo anche altro, per la regione resta la conferma di zona bianca, la situazione del virus parla di ultimi dati ISTAT sulla mortalità, quasi 1.300, recessi in più rispetto al pre-Covid, intanto anche nel Friuli occidentale stanno seguendo il modello delle valli. Il modello delle valli è quello di portare il vaccino direttamente a casa, in questo caso nei comuni delle valli della Tisoni. Si è cominciati con San Leonardo, noi siamo stati in diretta collegati con Francesca Santoro la settimana, questa settimana proprio per la partenza, per l'avvio di questa campagna di vaccinazione casa per casa, anziché la raccolta differenziata, che siamo abituati a definire con questi termini, casa per casa, in questi termini c'è anche la vaccinazione casa per casa, perché i comuni hanno fatto un accordo, sono riusciti a portare i vaccini direttamente, la possibilità di vaccinare direttamente nel comune, senza doversi spostare e raggiungere gli hub vaccinali, che pur in alcuni casi sono neanche difficili da raggiungere, perché per esempio San Leonardo non è lontana da Cividale, dove c'è un hub vaccinale, ma il comune ha inteso in ogni caso provare ad agevolare, d'intesa con l'autorità sanitaria della regione, per questo piano di vaccini casa per casa, ha inteso ad agevolare i propri cittadini e c'è stata una buona adesione. Tutto fa brodo, come si vuol dire, per aumentare la percentuale di vaccinati e quindi aiutare anche gli indecisi a decidersi, a vaccinarsi, a chi ha problemi di spostamenti, a non avere più alibi. Insomma si tenta di eliminare qualsiasi alibi che possa giustificare un mancato accesso, una mancata adesione alla campagna vaccinale anti-Covid. Continuiamo la nostra rassegna stampa sui giornali generalisti, andando a leggere la prima del Corriere del Veneto, edizione Treviso e Belluno, che titola così, virus, le restrizioni sono lontane, tornano i contagi in due casi di riposo anche tra medici e anziani vaccinati, ma con sintomi lievi. Questo è molto importante perché nessuno ha mai detto che il vaccino impedisce il contagio. Il contagio può esserci, la variante Delta è molto contagiosa, dunque è probabile che contagi anche persone vaccinate. In questo caso tra medici e anziani di due case di riposo in Veneto si sono riscontrati dei contagi, però i sintomi che sono poi sopraggiunti sono lievi. Questa è la notizia che conferma quanto ormai si va dicendo da tempo. Tre giorni di eventi sfilate, feste VIP, gli stilisti, qui vediamo Dolce e Gabbana, a Venezia è il sogno della moda. E poi inchiesta per omicidio, la famiglia non ci crede, il giallo della farmacista trovata morta a Castelfranco. E poi tragedia al campeggio del Cavallino, spinta mortale al turista, è stato arrestato il dipendente del campeggio che nell'alterco ha provocato la morte del turista, un settantenne che è deceduto in un campeggio del Cavallino a Jesolo. Lasciamo il Corriere del Veneto, adesso ci spostiamo sul piccolo di Trieste, la pagina dell'edizione cittadina, casi raddoppiati, primato di Trieste a livello regionale, il capoluogo è passato in una sola settimana da 48 a 94 contagi, in terapia intensiva 9 su 10 non sono vaccinati, anche qui arriva questo messaggio importante, 9 su 10 non vaccinati in terapia intensiva. Questo è un dato che deve fare assolutamente riflettere chi ancora non si è deciso a ricorrere alla vaccinazione. Spostiamoci su Gorizia e Monfalcone, la pagina dedicata dunque all'isontino del piccolo, cambio dei presidi al polo liceale e alle professionali, arrivano i dirigenti scolastici di prima nomina Petitti e Carniel, sindacati soddisfatti nessun incarico a Scavalco. E poi in basso vediamo la foto dedicata a Monfalcone e al centro sportivo per disabili che aprirà nella primavera del 2022, importante questa notizia corredata da foto pubblicata dal piccolo in prima pagina. La prima pagina della cronaca di Gorizia invece è questa, nuovi presidi al Dante e al Cossar da Vinci, sostituiscono Anna Russo e Marco Fra Giacomo, previti della UIL, si dice soddisfatto, quest'anno non c'è stato, alcuni incarico a Scavalco. Lunedì si procederà con le nomine, gli amministrativi, tecnici e ausiliari, tutto questo nell'ambito di una scuola che deve poi fare attenzione al rispetto delle norme anti-Covid e quindi al possesso da parte del personale del Green Pass. Andiamo sulle pagine sportive, ma intanto prima di andare a leggere gli articoli chiedo alla regia di mostrarci la seconda giornata, il quadro della seconda giornata con due partite che sono state già disputate, il match di ieri tra Odinese e Venezia è finito 3-0 e poi l'Inter che ha vinto contro il Verona 3-1 in trasferta e poi gli altri risultati li conosceremo tra oggi alle 18.30 e alle 20.45 con quattro partite e poi domani con altre quattro partite che chiuderanno questo turno, poi ci sarà il break internazionale e si tornerà tra due settimane, questo intanto il quadro con l'Udinese che prima in classifica, prima in classifica era fino al successo dell'Inter, adesso è seconda in effetti perché l'Inter ha vinto due partite su due e l'Udinese invece a quota 4 e al secondo posto della classifica che vedete qui in questo momento, la classifica che naturalmente vi facciamo vedere così soltanto per curiosità perché dopo due giornate non si può parlare di classifica. Andiamo a leggere i titoli dei giornali, i capolavori di Molina, Molina ieri ha segnato il gol del 3-0, prima con una corsa di 40 metri, palla al piede, ha servito l'assist per il gol del connazionale Pussetto e poi a tempo scaduto è andato a segno grazie a Struger Larsen che ha giocato una straordinaria partita, lui che sarebbe forse in odore di cessione ma questo è tutto da verificare se accadrà o meno, in ogni caso ieri è stato schierato la primo minuto e ha fatto cose grege. Ecco possiamo rivedere il gol di Pussetto che è nato da una straordinaria cavalcata di Molina e poi il pallone al bacio con Pussetto che l'ha stoppata di petto in maniera delicata e poi facendo cadere il pallone sul suo destro lo ha spedito alle spalle di Leggerini, dunque assolutamente una prestazione condita anche da numeri importanti come questo del portiere Silvestri che ha evitato il gol del Venezia e poi vedete l'Udinese che strappa palla con un pressing alto, Pussetto che tira addosso al portiere e poi la rete di Gerard Deolofeo per il 2-0 e poi il 3-0 di Molina con la rete del calciatore argentino arrivata al termine di una azione prolungata, non questa, bensì questa Molina servito da Larsen, l'assist di Larsen nella palla di Molina che supera Leggerini realizzando il gol del 3-0 che ha chiuso definitivamente il match che era però già chiuso qui eravamo proprio alle battute finali. Deolofeo dice finalmente inizia a divertirmi, il corpo risponde e ho ritrovato fiducia ed è sicuramente un'arma fenomenale a disposizione di Gotti per l'Udinese, Gotti tonici e uniti ma si deve crescere e poi parla anche Nacio Pussetto, un calcio alla sfortuna, abbiamo dimostrato il nostro valore davanti ai tifosi. Questa sera su Udinese TV ci ricordano che va in onda il film, una ragazza tutta d'oro per la serie dei grandi classici musicali degli anni 60, domani sera invece si tornerà a parlare di calcio con l'altra domenica il programma curato e condotto da Paolo Bargigia. Qui siamo sul gazzettino, ci spostiamo anche sulla pagina del Pordenone, il Pordenone che dopo la prima partita in cui è stato sconfitto in casa da Perugia è chiamato domani a vincere e a recuperare, certo non è facile perché si trocarà contro la SPAL, in ogni caso si chiede subito di tornare, anzi di tornare, di fare il primo risultato positivo perché siamo alla seconda giornata anche in sede di Bino. Verdi ora devono un regalo all'Oviso, dopo aver festeggiato il compleanno del Presidente la testa è sulla SPAL, vincere domani sera in trasferta è il modo migliore per ringraziarlo. Lasciamo il gazzettino, adesso andiamo a leggere il messaggero di Udine, anche in questo caso per quanto riguarda le pagine sportive, visto che il resto l'abbiamo già sfogliato. L'abbraccio dei giocatori dell'Udinese in questa mezza parte delle due pagine dedicate all'Udinese, alla partita di ieri, vediamo Molina e Pereira, l'Udinese regala entusiasmo, il Venezia paga Dazio al Friuli, decidono i gol di Pussetto, De Olofeo e Molina ma anche le parate di Silvestri, dopo la sosta i bianconeri vanno alla Spezia per affrontare la formazione adenata da Tiago Motta, qui vedete De Olofeo che è in foto con Pereira e con Molina, in quest'altra metà della pagina, le dichiarazioni di Gotti, squadra da completare sul mercato e su questo la società è d'accordo, poi Zanetti che invece dice troppi regali, dobbiamo alzare il livello. Continuiamo ancora con la rassegna stampa sportiva, andando a leggere adesso la gazzetta dello sport, abbiamo la prima pagina e la pagina dell'Udinese, vediamo prima la pagina sulla partita di ieri, Pussetto più De Olofeo, l'Udinese va già veloce, dopo il pari con la Juve i friulani battono il Venezia, Gotti si gode, anche Molina, Zanetti deve crescere, il migliore in campo nell'Udinese, Nacio Pussetto per il Venezia, il migliore è stato Jonsen, l'attaccante che all'inizio, subito pronti via, aveva fatto tremare la Dacia Arena, facendosi fermare, ipnotizzare per fortuna da Silvestri, Silvestri che poi un'altra parata monstre l'ha fatta nel secondo tempo il suo querere, negando ai Lagunari quello che sarebbe stato il pareggio dopo l'1-0 con cui si era chiusa la prima frazione di gioco. I bianconeri hanno giocato al gatto con il topo aspettando sotto coperta l'errore, le difficoltà l'hanno promossa, ha cambiato tanto da Napoli, dovrà essere molto più concreta. E allora le prime pagine, la gazzetta, l'Inter, corre a Correa, Correa e il Tuku, il calciatore ex Lazio, passato alla corte di Inzaghi che entra e fa doppietta, ribaltando il risultato a Verona, Verona che vinceva è stato recuperato prima sull'1-1 e poi è finita 3-1. Nerazzurri alla sosta punteggio pieno, gli argentini super, Lautaro firma il pari, decide il colpo di mercato, Inzaghi e la dedica ai tifosi. La Juventus prova in over, Ronaldo al Manchester United, gli azzurri, Scamacca e Canin, Paul, occhio ai cardi, il portoghese può perdere il 7 e il numero di Cavani. Il portoghese lo ha perso già il 7 perché va a Manchester, comunque in questo titolo c'è tanto di mercato, ma ci sono anche belle notizie. cioè i giovani italiani come Scamacca e Canin che sono anche in nazionale, convocati da Mancini in nazionale, sono italiani e fanno parlare di sé in chiave mercato, cosa che in passato non sempre è accaduta. Allegri e il dopo cristiano, i campioni passano stasera l'Empoli allo stadium, Max dice ora, niente alibi. Allegri che aveva provato dopo, in conferenza stampa, prima della prima partita di campionato a Udine, aveva sostenuto che Ronaldo sarebbe rimasto a Torino, invece le cose non sono andate così. Andiamo a leggere le prime di sport del tutto, le prime del tutto sport del Corriere, CR7 United in regalo, il calendario della Champions, intanto dopo i sorteggi dei gruppi, dei gironi. Niente siti, Ronaldo riabbraccia la sua ex squadra e scrive, Juventus sempre nel cuore, il giovane attaccante azzurro rientra in prestito, può arrivare anche Ciocameni, l'era senza il portoghese, parte oggi contro l'Empoli, eccolo qui, Moise Ken che torna alla Juventus da dove era partito, è stato poi al Paris Saint-Germain, dove aveva fatto discretamente, adesso torna e torna dunque alla Juventus, sarà a disposizione di Allegri, Juric smaschera a Cairo, stasera Fiorentina a Torino, l'austerity societaria mi ha sorpreso, io e il mio staff non sapevamo niente di questa intenzione, più mi scricchio lì e siamo soltanto all'inizio della stagione a Torino. Listone Mancini, Scamacca, come dicevamo, insieme a Ken c'è anche Scamacca, nella lista dei convocati che sono 34 da parte del commissario tecnico Mancini, prime convocazioni post trionfo agli europei. Il Corriere dello Sport, morto un papa, puntini sospensivi, Ronaldo la United, la viola Juve, è un grazie sui social, grazie con due zeta, Allegri senza rimpianti, la vita continua e punta su Ken, salute compagni, poi via con un jet, Manchester i dal bentornato, al club di Agnelli 15 milioni e 8 di bonus, Moise pista calda ma c'è anche un altro piano, questa sera di bala l'assalto dell'Empoli, ma ancora su Ronaldo, biennale da 50 milioni, ma non avrà il numero 7, il 7 a Manchester non lo avrà, questo è il riferimento al numero 7, scherzavamo prima sul 7 alla Juventus che non va al portoghese perché il portoghese è stato ceduto e al Manchester lo perderà, quindi dopo tanto tempo Cristiano Ronaldo potrebbe non essere più caratterizzato con CR7, il numero di Cavani a Manchester, vedremo cosa succederà, certo sono piccoli dettagli che però hanno il loro peso, quando con una sola sigla, su una sigla, quella di Cristiano Ronaldo, CR7 si costruisce un impero di immagine, vedremo, sarà un motivo di curiosità, ma l'Italia perde questo grosso campione e quindi sicuramente dispiace, torna al Manchester United Cristiano Ronaldo, lì dove tutto era iniziato ai grandi livelli per il calciatore portoghese, andiamo a leggere invece i programmi del giorno su Udinese TV con le dirette del telegiornali 10, 12, 16, 19, questa sera le 22.30, poi oggi è la giornata del film, una ragazza tutta d'oro alle 21, ecco qui la locandina del film per la serie dei grandi classici musicali anni 60, oggi però vi proporremo anche alle 17.15, non è indicato nell'elenco ma c'è in programmazione anche la telecronaca differita dell'incontro tra Udinese e Juventus della prima giornata del campionato di Serie A, quella di domenica 22, il bel 2 a 2 tra Udinese e Juventus alla Dacerena, per chi non lo avesse ancora visto potrà vederlo oggi sul nostro canale 110, a partire dalle 17.15. Da parte mia è tutto per la segna stampa, ma non è tutto per questa mattinata, perché vi do appuntamento alle 10 con il TG News 24 in diretta, a dopo. Grazie a tutti, grazie a tutti.